Le ferrovie dello Stato italiane cambiano anima e guardando alla sostenibilità come riferimento fondante delle strategie di business, puntano a diventare il player di sistema della mobilità nel paese, integrando servizi, logistica e infrastrutture, anche con soggetti diversi. E la nuova visione del gruppo FS è anticipata nelle linee essenziali nel corso dell'incontro Le Rotte della Sostenibilità, organizzato a Roma, alla Lums, dal Salone della Siesara e dell'Innovazione Sociale. La proposta che nei prossimi mesi sarà presentata è quella di una piattaforma, che si chiamerà New Go, che permetterà al viaggiatore di trovare tutte le soluzioni per spostarsi da casa sua alla destinazione, da casa, ufficio per esempio. Non troverà sulla piattaforma soltanto i treni, ma troverà tutte le soluzioni per andare appunto da dove parte, quindi dall'origine alla destinazione, con un unico biglietto, con virtualmente un unico click. Quindi invece di comprare N biglietti, stare attenti alle coincidenze, stare attenti a tutti i singoli passaggi, l'idea è di semplificare molto e di avere un biglietto per un unico viaggio. Non necessariamente tutto di ferrovie, ma potrebbero essere anche con partnership, come già abbiamo in diversi casi, sia col car sharing, sia col bike sharing, sia col TPL, e con molte altre soluzioni di questo tipo. La piattaforma sarà solo uno dei tanti tasselli che vanno a rimodellare il nuovo ruolo che Ferrovie vuole ricoprire in una prospettiva di mobilità sostenibile. Ruolo che poggia su cinque pilastri. Integrazione modale dei passeggeri, logistica integrata, infrastrutture integrate, sviluppo internazionale e centralità dell'utente anche in chiave digital. La mission del gruppo è la mobilità sostenibile, quindi siamo un po' cambiati, abbiamo cambiato pelle. Prima ragionavamo più in termini di treni, ora sì, sono ancora i treni, i treni sono l'asse portante, però vogliamo integrarci con tutte le altre modalità di trasporto, contro l'unico nemico che è l'auto privata. Nel nostro paese il 75% di tutti gli spostamenti avviene su gomma e solo il 2% su treno. Sulla scorta di questi dati la proposta del gruppo FS appare davvero rivoluzionaria. Dobbiamo far bene il nostro lavoro, facendolo sempre meglio riusciremo a convincere sempre più cittadini a utilizzare i nostri servizi. Questo vale sia per i passeggeri sia per le merci, perché anche sulle merci il modal shift è molto spostato verso la gomma, quindi vogliamo proporre servizi sempre migliori per trasportare anche le merci sempre più su ferro e sempre meno su gomma. L'incontro romano dedicato alle rotte della sostenibilità è stato organizzato dal Salone della Siesare dell'Innovazione Sociale come tappa di avvicinamento all'appuntamento nazionale a Milano in Bocconi il 2 e il 3 ottobre 2018.